Ciao amici di Nergames e bentornati per una nostra nuova video recensione quest'oggi vi parleremo di Fuji, gioco di Cranio Creation da 2 a 4 giocatori, da 10 anni in su, durata media della partita 45 minuti il gioco è ambientato in Giappone dove noi giocatori vestiremo i panni di alcuni esploratori che accidentalmente si ritroveranno in preda alla più catastrofica sventura che possa capitare in Giappone ossia l'eruzione del vulcano Fuji e starà lì a noi riuscire a salvarci tutti insieme infatti Fuji è un gioco cooperativo in cui o si vince tutti o alla sconfitta di un solo giocatore viene terminata la partita con la conseguente sconfitta l'obiettivo è riuscire a salvarsi dall'eruzione vulcanica e arrivare sani e salvi al villaggio andiamo a vedere ora i contenuti della nostra scatola abbiamo 4 schede, una per ogni personaggio con le rispettive carte 6 dadi, 2 pedine e un meeple che verranno usati per spostarsi lungo la mappa la mappa verrà creata ogni volta in maniera diversa ci saranno delle carte mappa, ne verrà pescata una e in base a quello che verrà scelto verrà costruito il sentiero che i giocatori dovranno percorrere per riuscire a salvarsi ci sono delle tessere infatti che andranno a comporre questo percorso ci saranno delle tessere villaggio che sono il traguardo di questo percorso una volta che arriveremo in fondo infatti saremo salvi e ogni carta poi una volta che verrà erosa dalla lava del vulcano Fuji verrà girata i disegni sono veramente molto molto belli per quanto riguarda l'eruzione del vulcano questa è la carta proprio vulcano da dove appunto inizierà l'eruzione e la conseguente discesa della lava ci sarà poi una scheda dove verranno monitorati i punti vita dei nostri personaggi perché infatti noi potremo essere feriti oppure essere travolti dalla lava una volta che avremo accumulato troppe ferite chiaramente ci sarà la nostra di partita e ricordo che è un gioco cooperativo quindi il nostro compito è riuscire non solo a salvare noi stessi ma anche gli altri e sarà possibile scegliere anche un livello di difficoltà a seconda di una di queste quattro carte chiaramente maggiore il livello di difficoltà minore sarà il numero delle ferite che si riuscirà a sopportare la scheda contenuti è completata con queste carte che sono le abilità che potranno essere usate da parte dei nostri personaggi e da queste tessere che verranno posizionate casualmente a seconda sempre della mappa che viene pescata lungo il percorso una volta superate queste tessere l'eruzione del vulcano Fuji aumenterà e quindi sarà ancora molto più difficile riuscire a raggiungere la vittoria come si gioca a Fuji? Fuji è un gioco che riesce a unire abilmente il tiro di dadi con una forte componente strategica pur tenendo viva la componente cooperativa che è fondamentale durante quasi ogni turno come funziona? Lungo la mappa ci sono queste carte che vanno a rappresentare delle semplici tessere che vanno a comporre il percorso ogni tessera, ogni carta ha dei dadi rappresentati al di sotto possono essere colorati o possono essere caratterizzati da una linea ondulata che significa dadi dispari oppure da una linea dritta che significa pari prendiamo per esempio questa carta che è una carta villaggio quindi sarà posizionata alla fine del nostro percorso quando noi potremo salvarci noi per poter andare qui, quindi per poter raggiungere questo obiettivo prima di tutto dovremo tirare i nostri dadi alle spalle della nostra scheda quindi solo noi sapremo il risultato ottenuto in base al risultato ottenuto sceglieremo quale casella vorremmo raggiungere e andremo a posizionare questa tesserina per raggiungere questa tessera, in questo caso particolare le nostre carte pali blu devono essere di un numero maggiore rispetto alla somma di tutti gli altri quindi noi andremo a visualizzare le facce dei nostri dadi 6 facce, 3 colori, 2 rosa, 2 gialle e 2 blu e quindi in base appunto al risultato che abbiamo ottenuto andremo a scegliere su quale casella andarci a spostare cercando di non interferire il percorso degli altri perché vi ricordo che nessuno può restare indietro in quanto la sconfitta di un giocatore equivale alla sconfitta dell'intera squadra e di tutta la partita ogni round è composto da 6 turni in cui il primo appunto si lancia il dadi alle spalle della nostra scheda qui ne vedete messa una queste sono le altre per gli altri giocatori poi vengono giocati i vari potenziamenti poi sarà possibile ritirare quanti dadi si vuole ma senza dichiararlo uno può decidere ok sono a posto così lui vuole muoversi in quella casella io non lo disturbo lui non disturba me nella fase 4 sarà possibile di nuovo giocare delle carte a potenziamento e poi nella fase 5 avverrà lo spostamento vero e proprio verranno scoperti i dadi e si faranno i conteggi nella fase 6 quella più terrificante tra virgolette è l'eruzione del vulcano fuji quindi le tessere come avevo mostrato in precedenza verranno girate in questo caso terra bruciata se un giocatore si trova su una tessera che dovrà essere rivolta in questo senso sarà travolto dalla lava e quindi sarà sconfitto invece nel caso non riuscisse a raggiungere la carta disegnata subirà una carta ferita troppe ferite equivale a una sconfitta questi insieme di regole vanno a bilanciarsi perfettamente solo in determinate situazioni questo perché secondo me fuji è un gioco perfetto per essere giocati in tre giocatori in quanto se si dovesse decidere di affrontare il gioco in solo in due giocatori bisognerà comunque creare un terzo virtuale in cui verrà alzata la scheda giocatore e gli altri due giocatori fisici dovranno tirare tre dadi davanti alla scheda quindi conoscendone il risultato e tre dietro diciamo che è un due giocatore un po' mascherato in quanto bisogna comunque in qualche modo costruire una terza postazione e infatti giocando in due perde un po' di quel mordente che si può avere invece giocando in tre o in quattro raggiungere la vittoria può essere facile chiaramente scegliendo il livello facile è molto più difficile riuscire a morire per via delle ferite mentre con il livello più difficile raggiungere la vittoria sarà veramente arudo soprattutto quando il vulcano inizierà a eruttare e si inizia a percepire la tensione della lava che si sta avvicinando questa cosa è stata veramente molto apprezzata da parte nostra in quanto senti un po' quella premura, quella pressa di doverti muovere a tutti i costi per evitare di essere travolto dalla lava la qualità del prodotto è assolutamente ottima i disegni sono piaciuti moltissimo specialmente le carte dove viene rappresentato il vulcano e le conseguenze della lava e i materiali sono veramente di ottima fattura Fuji di per sé è veramente un discreto titolo ripeto però giocarlo in due perde molto della sua forza quindi io vi consiglio assolutamente di provarlo e di giocarci però almeno in tre giocatori la durata di 45 minuti è bene rispecchiata se si conoscono già le regole chiaramente all'inizio, forse alla prima partita bisogna prendere un po' di mistichezze quindi potrà durare più di quei 45 minuti ma la durata media è assolutamente garantita come riportato sulla confezione fateci sapere dunque se voi avete giocato a Fuji se avete avuto le nostre stesse impressioni se vi è piaciuto giocarlo anche in due o se anche voi ritenete il gioco perfetto per tre giocatori o addirittura per quattro fatecelo sapere nei nostri commenti veniteci a trovare anche sul sito per scoprire il voto che abbiamo dato a Fuji che vi ricordiamo essere di seguito da Cranio Creation mi raccomando seguiteci alla prossima video recensione sempre su YouTube ci potete trovare anche su Facebook, su Instagram e su Twitter e se volete c'è anche la nostra serie podcast a qualcuno piace nerd sia su iTunes che su Spotify alla prossima e un saluto da Nerd Games Power to be nerd Ciao! 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 Grazie a tutti.